e benvenuti ragazzi adesso volevo fare un altro video volevo fare un altro gioco volevo fare un nuovo gioco make more ora vi farò vedere eccolo qua mettiamo questi carichi ecco io adesso due fabbriche ecco questa è la prima che era più diciamo che è più avanti e un'altra e svegliatevi brutti imbecilli che non siete altro lavorate allora abbiamo questi tipi e in questo deve mandare solo avanti la nostra fabbrica e basta giochiamo un po' e allora i personaggi sono quelli che ho io sono questo qua che mette che ve lo danno all'inizio poi sceglierete voi poi ho giovanni david granny gary mister pig non so perché elf man e ulad o vladbo non so poi bram edmund che sembra un papa poi newton bill cleopatra con la k poi miss mim sarebbe il mimo femmina poi tormentor poi giù questo mi ha ispirata perché sembra un vecchio film di brosley perciò l'ho messo poi mister shot che io dico michael jordan questo non ci assomiglia a una mazza poi mister scalpel poi buck e tap non so dove sia ma ora andremo a vedere il mio no abbassato sì dove è tepp? oh grano tepp? io qua tepp non lo vedo in nessuna parte intanto questa è ops sbagliato oddio che cazzo e dai e torna indietro e insomma questo gioco è abbastanza bello e lo consiglio no ma io devo fare questi diamanti ecco andiamo avanti qua la prossima puntata la faremo ogni martedì 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 sì 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 allora o altra grano faremo ogni martedì sera e make more sarebbe sto gioco e vabbè ve lo consiglio e ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi qui vi saluto ciao